Il cilindro è messo in obbligo per dare un po' spazio, anche loro, come vi ho capito, non si è difficile, questa prova, vedete, di contropendenza, deve sollevare ovviamente avanti della sua fotocicletta per arrivare sul cilindro verticale, ci arriva, ci arriva quando vedi, un attimo di respiro anche per lui, fatica, si fa sentire, adesso, attenzione per questo cambio, da parte di Faillardo, l'ultimo colpo di cassa, verso l'uscita intendo 4 minuti di 20 secondi, adesso per Geroni Faillardo, ecco qua, Geronimo, bravissimo, ancora un grandino più su, l'ultimo incemento ormai è vicino per Geroni Faillardo, ultima prova per questa fatica delle qualificazioni a Bolzano per Faillardo, molto bene, si scompone un attimo ma ritrova la sua posizione, e anche lei ci arriva, ci arriva molto bene, la discesa, la discesa, attenzione, attenzione arrivare l'uomo, ce la fa, e adesso anche per lui si scala, sta ripida, farete, dove però il pneumatico fa la giunta, prima che scatta un altro punto, per il tempo dovranno passare ancora 15 secondi, l'ultima gasata con la sua cascassa per arrivare là su, e arriva adesso, arriva adesso!